Il risultato ci sta stretto, Giorgio Marinucci Palermo non ci gira intorno, il DS del Vasto Girardi a mente fredda analizza il pari con la San Giustese, giunto al termine di un match che i padroni di casa hanno giocato con il piede sul gas dall'inizio alla fine, non riuscendo a concretizzare le tante occasioni da rete create. Sì, un risultato che sta stretto per le occasioni create, per come era la partita, però naturalmente una volta passati svantaggio, quando siamo riusciti a riprenderla, comunque pensavo che si potesse anche vincere, però accettiamo il verdetto del campo e pensiamo già alla prossima. Pareggio arrivato senza Chiare Mateng, Ruggeri e Corbo, se dietro il Vasto Girardi non ha patito la forza degli avversari, in avanti qualcosa è mancato, dimostrazione che occorre un uomo gol, almeno quando non c'è il centravanti titolare. Varsi e Petrone hanno fatto ammattire gli avversari, ma è mancata la zampata vincente. Le assenze di solito si fanno sempre sentire in qualsiasi squadra, però voglio fare i complimenti anche a tutto il reparto perché comunque le occasioni oggi non sono mancate, vuoi anche la bravura del portiere, vuoi un po' imprecisione o qualcos'altro, però comunque abbiamo fatto un'ottima partita. Peccato per il pareggio, però ripeto, devo fare i complimenti alla squadra perché ha provato a vincere in tutti i modi. L'operatore di mercato è già in fibrillazione per la riapertura della campagna acquisti-cessioni. Il Vasto Girardi non ha particolari problematiche considerando che i risultati sono in linea con le aspettative della società, tuttavia si può sempre migliorare. Vasto Girardi in questo momento sta facendo il suo onesto campionato e ripeto, siamo contenti della rosa che abbiamo, siamo vigili sul mercato e è naturale che se dovesse arrivare qualcosina in entrata dobbiamo fare per forza qualcosina in uscita, anche per mantenere un organico giusto e per far lavorare il mister in maniera tranquilla. Grazie a tutti.